Negli ultimi due giorni in Abruzzo si è registrato un aumento di 93 casi di nuovi contagi da covid-19 su un totale di 1425 tamponi effettuati con una percentuale di incidenza pari al 6,5 per cento. Sono stati in particolare 40 i casi di due giorni fa su 873 tamponi 4,6 per cento, 53 quelli rilevati nel bollettino di ieri su 552 con un aumento dell'incidenza percentuale pari al 9,6. Il calo del numero dei tamponi registrato ieri è dipeso dal fatto che nella giornata di Pasqua non sono stati operativi i laboratori dell'istituto zooprofilattico di Teramo. Sempre negli ultimi due giorni vi è stato un nuovo aumento dei ricoveri in ospedale non in terapia intensiva per complessive 36 unità portando il dato generale a 351, 50 in provincia dell'Aquila, 100 in provincia di Chieti, 124 in provincia di Pescara, 77 in provincia di Teramo. Resta stabile il dato dei degenti in terapia intensiva. Sono 54 e non vi sono state variazioni negli ultimi due giorni. Questa è la distribuzione dei degenti in terapia intensiva, 12 in provincia dell'Aquila, 10 in provincia di Chieti, 22 in provincia di Pescara e 10 in provincia di Teramo. Sale purtroppo il numero dei pazienti deceduti, 18 in questi due giorni, così da portare il dato generale a 224 vittime in Abruzzo per l'infezione da Covid-19. In aumento di 21 unità il numero dei guariti, ora dunque 211 complessivamente. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti 20.667 test di cui 14.225 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tutto rincorso. Del totale dei casi positivi, 220 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 465 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 929 alla ASL di Pescara e 599 alla ASL di Teramo. Dei 53 casi positivi registrati ieri, 13 fanno riferimento alla ASL Lanciano-Vastochieti e 40 alla ASL di Pescara. Invariati quelli delle ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila e Teramo proprio per la chiusura nel giorno di Pasqua dei laboratori delle ZS.